Musica Hi people of YouTube Welcome back to the new episode of Prototype A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati le scorse puntate Con l'arrivo di Soldati grossi, mostri ancora più grossi I soldati ormai iniziano a scoprire Dove siamo con varie tecnologie Ma soprattutto hanno iniziato a liberare un gas Che piano piano ci distrugge all'interno Che non fa male a loro, fa male solo a noi Ovviamente Quindi la missione di oggi è Il mondo liberato Da che cosa? Lo scopriremo tra poco sicuramente Prima però andrei a farmi una mangiata di pesce E per pesce intendo uomini che voglio mangiare Ad esempio questi soldati Sia mai che qualcuno di loro faccia parte della trama degli intrighi no? Vieni qua che manchi solo tu Ecco fatto Vita completa Quanto mi serve per aumentare la salute al massimo? Ah no, la salute ce l'abbiamo già al massimo È la massa critica che possiamo aumentare Che alla fine è un pezzo di salute extra che comunque ci regalano Altri centomila punti Ce la possiamo fare Aspettiamo questa missione e poi la prendiamo Allora andiamo Un'altra telefonata Pronto? Ecco qua Ok Ma Alex sembra Il virus Parliamo in termini Terra a terra Ogni volta fa sempre ste facce Che non ha idea di cosa sta facendo Boh non si sa Non lo sa neanche lui a volte Ecco Ah è il soldato Ok Ecco arrivare lì potrebbe essere pericoloso Beh Che c'è da sorprendersi? Lui può fare i megasalti Non li posso fare anche io? Ti pare strano? Eh? Solo tu puoi fare i megasalti? Via 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 però Non dobbiamo entrare in contatto con lui Va bene tutto ma Stammi lontano Megasoldato Ecco ad esempio Lui è Lui È In una zona Terribile Aspetta 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 che forse Che culo Grazie di essermi venuto già vicino Allora Dove dobbiamo andare? Perfetto Era È proprio È andata tutto liscio come doveva Ok Ok Poi 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 Perfetto Forza 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 Vogliele Scusatemi Allora Cosa dobbiamo fare noi? Scorta la pompa di Blotox Va bene No Troppo Vai via da me Megasoldato No No Non aspetto nulla Tu vai via da me Va bene tutto Ma Stammi lontano La cosa più intelligente Che può fare un soldato È davvero Mettersi sopra il carro armato Sopra sti cosi Ho visto uno schiantarsi contro il carro armato Non ti fermare per favore Tanto sono solo infetti Il freddiero Non potete trattarli come carne De macello Eh certo Come no E allora faccio mangiare te e la tua famiglia Poi vediamo Cioè allora Io capisco Nei film Tipo quelli che difendono i diritti Della Popolazione In quel momento Infetta Quelle robe lì Però Dovrebbero anche un attimo capire Che forse ci sono delle No Che fai Che fa Ci sono anche delle priorità magari eh Delle priorità tipo Non so Sopravvivere Far Di nuovo Curare le persone Sai com'è Queste cose qua Che forse durante Una qualsivoglia tipo di infezione Uno dovrebbe un attimo Pregarsene Un attimo Un po' di più Sai I zombie Erano persone come noi Eh certo Ti credo Però intanto Stanno mangiando Tutta la sua oltre Magari tu potresti essere Neanche contento Per carità Però Stai com'è Magari c'è chi La sua oltre Gli vuole anche bene No E poi continuo a sbagliare Tanto io eh E sto per finire Le munizioni Quindi Finchè Non si fermano loro Io Li ignoro Vai 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 Tu non ti fermare Munizioni finite E il meglio che posso fare È stare qua su questo elicottero Cioè su questo elicottero Su Su questo camion Stavo pensando di fregare un elicottero Quello si E quando mai Eccolo lì No No Scusami Perdonami Cosa Blood Sott'attacco Non ci posso fare niente Non ho modo di proteggerlo In questo momento Ecco fatto L'unico modo che avevo Per proteggerlo È che qualcuno Usasse un carro armato Potrei rubarlo Io un carro armato No Allora Sai cosa Finchè c'è Come si dice Li attiva Io continuo A fargli usare Cioè i carri armati a loro Uh Calmo Troppo alto Ok Vai continua per favore Venite a me Cellule Ecco fatto Vai 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 Voi continuate a muovervi Io Resto qua In vostra difesa Forse dovrei davvero Rubare un carro armato Dove è andato qui Siete un po' più specifici Per favore Colpite lo stronzo Colpite lo stronzo Ecco fatto Ecco fatto così Non ci può disturbare Altro Taccolone stronzo Quella Calvi con le esplosioni Però eh Colpite lo stronzo No No Aia che male Vai 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 Che dolore Estrale Ho bisogno di un elicottero O di qualcosa Giusto per Per almeno poterli Colpire in modo decente Perché non mi posso Trascorre Aspetta 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 Vieni qua Entraci dentro Perfetto Levatevi tutti Dalle scatole Ecco fatto Tentacolone numero 1 Andato Tentacolone numero 2 Distrutto Tentacolone numero 3 Devastato Ok Ora La cosa migliore da fare È che io Rimanga Dietro Non vicino A sto coso Perché Potrei farlo esplodere Per sbaglio Ma al che vada Gli rimango di lato Su 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 Dai muoviti Muoviti prima che esplodi Per favore Cosa dobbiamo fare? Scusami Qual è l'obiettivo? Scortare Eh Ti sto scortando Basta che ti muovi Dai Vai Vai Ho dovuto dargli un colpetto Sarai rimbambito Sì come Come quando vedi il tuo animaletto Fermo un attimo E dici Ehi Tutto bene E lui si sveglia Forza forza Andate avanti Adesso io vi raggiungo La cosa migliore sarebbe che io Mi stia di lato Come ho detto Eccolo là infatti Tentacolone Muovetevi Muovetevi Forse al posto del carro armato Sarebbe meglio avere un Come si chiama Un elicottero Però Al momento Non ho modo di prenderne uno Quindi Eh ho capito che c'è un tattacco Non è che ci posso fare molto Stai bobo no Non colpire E infatti un elicottero è andato Non colpire gli altri carri armati Che ci servono Ci servono che siano ancora vivi Obiettivo completato? Capirei Missione completata Vediamo 150.000 2.20 Niente di eccezionale Però Adesso dovremmo esserci Dovremmo avere abbastanza punti Per prendere La massa critica al massimo Certo Non sarà il migliore dei potenziamenti Ma È giusto quel tocchettino di vita in più Che ti Può essere utile Aspetta un attimo Ecco Fatto 1 Sì 200 pietre Quando me le vado a prendere? Vediamo che consiglio Gli attacchi in sal Non lo so Volevo leggere Il gioco mi ha Mi ha deciso di tagliare a metà Il consiglio Però Ce ne sono altri Qui nel caso ne volessimo Vediamo cosa ci dice questo Gli attacchi ai cacciatori Per infliggere ingenti danni Combattimento ravvicinato Afferra cerchio Ah Ok Mi aspettavo qualcosa di meglio Vediamo questo Rigenerano la salute Evitando di subire danni Per alcuni secondi Trovo un riparo sicuro Grazie Uh Tizio della trama Tizio della trama Degli intrighi Aspetta 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 Venga qui Venga qui Che ho bisogno di lei Vediamo il prossimo consiglio Accedi al miglio Grazie Accedi al coso Dei miglio No Tirati su Ecco fatto Il dottor Shane Ivy Ma è Ah no Non è Pensavo fosse Il dottore Che ci ha aiutato A trovare danni Ma non è Pensavo fosse Ragland Comunque Il soldato qui Quello che Ci ha buttato dentro Il virus Se non ricordo male Dovrebbe essere Una boss fight Bella forte Più avanti Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Sì Sì Autore dei sorrisi